Workout Total Body, un'ottima sessione di lavoro per allenare tutto il corpo. 24 minuti di lavoro con esercizi da 20, 30 e 40 secondi. Buon allenamento! Iniziamo, skip alto. Non forzare il movimento, siamo solo riscaldando il corpo. 5, 4, 3, 2, 1, cambio. Calciate i glutei. Sincronia in ritmo. Cerca di toccare i glutei con i talloni. 5, 4, 3, 2, 1, ok. Incrocio braccia-gambe. Movimento lento e controllato. Mano verso il piede opposto. 5, 4, 3, 2, 1, jumping check. Via! Braccia leggermente piegate. Ritmo e controllo. 5, 4, 3, 2, 1, cambia. Ciconduzione braccia avanti. Movimento ampio e respira profondamente. 5, 4, 3, 2, 1, cambio. Ora indietro. Vai piano e fai movimenti ampi e controllati. 5, 4, 3, 2, 1, braccia lunghi i fianchi. Destra su e sinistra giù. Poi cambi e continui. Movimento fluido. 5, 4, 3, 2, 1, ora incrocia le braccia. Il movimento è lento. 5, 4, 3, 2, 1, slancio frontale alternato. Destra, sinistra, destra, sinistra. Cerca di toccare il piede con la mano. 5, 4, 3, 2, 1, ok. Gambe divaricate. Braccia chiuse davanti al petto e ruota il tronco. Addome sempre contratto. 5, 4, 3, 2, 1, cambia. Incrocia la gamba indietro e sposta il tronco dallo stesso lato. Sono 40 secondi. Mantieni gli addominali contratti. Fuori l'aria durante la torsione. 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1, ok. Mani dietro la testa e ginocchio verso il gomito opposto. Fuori l'aria quando vai in chiusura. 5, 4, 3, 2, 1, cambio. Skip alto e tocco sotto la coscia. Sono 40 secondi. Mantieni un ritmo sostenuto. Alza bene le gambe. Schiena dritta. Respira. Ultimi 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1, recupera. 3, 2, 1, vai. Molleccia sulla posizione di squat. Scendi bene sulla posizione. Il ginocchio non supera la punta del piede. 5, 4, 3, 2, 1, cambia. Affondi indietro. Alterna gamba destra e gamba sinistra. Massimo controllo e pulizia di esecuzione. Addominali sempre contratti. 5, 4, 3, 2, 1, vai. Mezzo squat e passi laterali. Talloni ben appoggiati a terra. Concentrati. 5, 4, 3, 2, 1, ok. Squat e slancio indietro. Sempre 40 secondi. Sali completamente durante lo slancio. Poi scendi squat. Non salire troppo con la gamba. Scendi bene in squat prima di risalire. Ultimi 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1, recupera. 3, 2, 1, via. Jumping check e braccio in apertura. Il gomito è sempre parallelo al pavimento. Atterra sull'avampiede. 3, 2, 1, cambio. Ora squat e affondo indietro alternato. Veloce e preciso. Squat a fondo con la destra. Squat a fondo con la sinistra. Separa bene i due movimenti. Scendi bene sulle posizioni. 5, 4, 3, 2, 1, cambia. 3 jumping check e saltello laterale. Jumping check veloce e saltello laterale stretto. Atterra sempre sull'avampiede. 5, 4, 3, 2, 1, vai. Skip e slancio alternato. Sono 40 secondi. Skip alto veloce e slancio in avanti controllato. Coordina bene i due esercizi. Skip, skip, slancio, slancio. Continua. 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1, recupera e preparati per il plank in corsa. 3, 2, 1, atterra. Plank in corsa. Bacino basso e braccia tese. Intensità sostenuta e costante. Braccia perpendicolare atterra. 3, 2, 1, sali in piedi. Camminata su plank e push up. Sempre 40 secondi. Completa bene la posizione di plank prima di fare il push up. mantieni la schiena dritta. Respira. 5, 4, 3, 2, 1, resta in posizione. Plank e ginocchio al petto. Movimento continuo. Tieni il ritmo. Bacino basso e addome contratto. 5, 4, 3, 2, 1, in piedi. Posizione di mezzo squat. Due torsioni e pugno. Non esagerare la torsione. Destra, sinistra e pugno. Vai. Velocità e forza. Espira quando tiri il pugno. Dieci secondi. Cinque, quattro, tre, due, uno. Ok, pausa. 5, 4, 3, 2, 1, via. Skip alto e tocca le mani sotto le cosce. Sono 40 secondi. Mantieni un ritmo sostenuto. Alza bene le gambe. Non piegare la schiena. Respira e resisti. Ultimi dieci secondi. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambio. Posizione di mezzo squat. Braccia chiuse davanti al petto e ruota il tronco. Addomi sempre contratto. Addomi sempre contratto. Respira. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambio. Incrociare la gamba indietro e sposte il tronco dallo stesso lato. Addome contratto. Fuori l'aria durante la torsione. 10 secondi. 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia. Mani dietro la testa e ginocchio verso il gomito opposto. Ritmo sostenuto. Fuori l'aria quando vai in chiusura. Massima concentrazione e controllo del movimento di chiusura. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. Preparati per squat e slancio indietro. 3, 2, 1. Via. Giù in squat e slancio indietro. Squat e slancio con la gamba destra. Squat e slancio con la gamba sinistra. Continua. 5, 4, 3, 2, 1. Ancora 15 secondi. Non mollare. 5, 4, 3, 2, 1. Vai. Ora molleggia sulla posizione squat. Contrae i glutei e non usare la schiena per molleggiare. Talloni ben appoggiati a terra. 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia. Affondo indietro alternato. 40 secondi. Mantieni l'addome contratto per controllare il movimento. Usa le braccia per migliorare la stabilità. Dai. Mancano solo 9 esercizi. 5, 4, 3, 2, 1. Cambio. Posizione di mezzo squat. Apri e chiudi. Cerca di aprire prima con una gamba, poi con l'altra. Bacino basso. Mantieni il ritmo. Ultimi 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. 8 esercizi a termine. 3, 2, 1. Scendi a terra. Plank in corsa. Massima intensità. Sono 40 secondi. La respirazione gioco un ruolo fondamentale. Concentrati. 7 esercizi rimasti. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia. Camminata su plank e push up. Nel push up contrai l'addome e mantieni la schiena dritta. Completa bene la posizione di plank prima di fare il push up. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia. Plank e ginocchio al petto. Destra e sinistro. Destra e sinistro. Resisti. Braccia tese e perpendicolari a terra. Bacino basso e addome contratto. Concentrati. Corpo dritto e ritmo. 5, 4, 3, 2, 1. In piedi. Posizione di mezzo squat. Due torsioni e pugno. Non esagerare la torsione. Destra, sinistro e pugno. Via. Velocità e forza. Espira quando tiri il pugno. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. Quattro esercizi rimasti. 3, 2, 1. Vai. Squat. Affondo a destra. Squat. Affondo a sinistra. Tieni un buon ritmo ed esegui bene lo squat. Dai. Mancano pochi esercizi. Continua. Altri 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Cambio. Ultimo jumping jack e braccia in apertura. I gomiti sono fermi e parallele a terra. Ammortizza bene il salto. 5, 4, 3, 2, 1. Vai. Ultimo skip e doppio calcio. Sono 40 secondi. Sali, sali, calcio, calcio. Massima coordinazione. Porta la mano al piede quando fai gli slanci. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Ultimo esercizio. 3 jumping jack. Saltero laterale. Ancora 3 jumping jack. Jumping jack veloce. Saltero laterale stretto. Continua. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, pausa. Recupera 20 secondi. Ora passiamo allo stretching. 5, 4, 3, 2, 1. Riprendiamo. Gambe divaricate e scendi frontalmente. Mai in appoggio dietro le caviglie o a terra. 5, 4, 3, 2, 1. Rilassati nella posizione. 5, 4, 3, 2, 1. Cambio. Prendi con la mano il piede destro e tieni la schiena dritta. Resti in equilibrio e respira. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia gamba. Prendi con la mano il piede sinistro e non sbilanciarti in avanti. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Gambe divaricate e scendi verso la gamba destra. Prendi la gamba e rimani in posizione. Respira. 3, 2, 1. Ora spostati piano piano verso sinistra. Mani al piede o alla caviglia. Resta in posizione e sciogli le tensioni. 5, 4, 3, 2, 1. Il tuo allenamento è terminato. Santander. 1, 6, 5, 11, Herbert. 1, 7, immersed. 1, 3, 2, 1. Il tuo allenamento 3G. 2, 1. Grazie.